buongiorno e benvenuti alla resegna stampa oggi è sabato 13 marzo 2021 questo è il canale 17 telefono tv visibile sul digitale terrestre in tutta la regione marche e come ogni mattina da lunedì al sabato alle 7 in diretta c'è occhio ai giornali il commento alla stampa del giorno iniziamo a vedere il santo il tempo e poi i titoli oggi la chiesa tra i tanti ricorda san rodrigo di cordova il sole sorto alle 6 27 tramonterà le 18 e 14 sul sito di trebimeteo.com questa è la giornata che si prospetta dal punto di vista meteorologico al mattino abbiamo il sole con qualche nuvola un po su tutta la regione marche il pomeriggio trascorrerà con qualche velatura così come la notte per la giornata di domani domenica vedete il tempo comincia a essere un po perturbato soprattutto il confine nord della regione poi via via nella mattinata nel pomeriggio arriveranno le piogge guardate domenica pomeriggio domani pomeriggio praticamente piove ovunque con qualche temporale anche sul nord della regione e addirittura la neve sui 600 metri temporali anche lungo la costa domani pomeriggio sulla pesarese e lanconetano allora cominciamo con la lettura dei titoli delle pagine che vi abbiamo selezionato questa mattina allora innanzitutto sono due le notizie più importanti la prima quella che ormai è di dominio pubblico conosciamo tutti ovvero per altre due settimane le marche saranno in zona rossa e poi la psicosi da vaccino astrazeneca che inevitabilmente così come avevamo anticipato ieri proprio qui in rassegna stampa si è verificata nella giornata appunto di ieri questa psicosi che ha spinto tantissimi anziani a rifiutare il vaccino e a fare marcia indietro tornarsene praticamente a casa molte pagine sono dedicate a questo argomento allora cominciamo dai titoli d'apertura questo è il corriere adriatico due settimane in rosso e il provvedimento del governo in vigore da lunedì per tutte le marche decise decide l'incidenza ovviamente dei positivi sono tantissimi i positivi ogni giorno scoperti acquaroli stiamo attraversando la fase più difficile la stretta anche per il periodo di pasqua praticamente come a natale non si potrà fare quasi nulla anziani in fuga invece da astrazeneca al centro monaldi di pesaro questa è la foto notizia del corriere adriatico il carlino di pesaro vaccini un altro caos titolo della foto principale pfizer esaurito tanti rifiutano astrazeneca code e proteste marche in rosso altre due settimane invece l'annuncio dei acquaroli che ingloba anche ascoli e il comune di pesaro avverte giro di vite sui controlli la tragedia invece di un pensionato travolto e ucciso da un jaguar mentre attraversa sulle strisce pedonali questo è successo ad a pecchio e ancora musica in lutto morto a 64 anni il compositore marco facondini e poi il calvario di un cuoco da due mesi senza cassa integrazione l'inps mi ha dimenticato di taglio basso invece ragazzi avarese torniamo a mordere la vl la spinta di beretta per la trasferta e poi fatturati turismo a il mobile salvo con un meno 2 per cento sono i dati della cna il carino di ancona la staccata per draghi e quella di valentina vezzali scelta come sottosegretaria allo sport la campionessa iesina nominata dal premier impegno come in pedana per onorare l'italia dice lei tutta la regione esulta per troppo tempo le marche marginali ora con lei si colma un vuoto anche qui siamo rossi per altre due settimane il carlino di macerata il pasticcio dei vaccini guardate questo cartello affisso solo astra zeneca disponibile siero anglo svedese non ha il via libera per i pazienti più vulnerabili rabbia delle famiglie dovevano avvisarci prima di farci spostare e allora la psicosi da astra zeneca al monaldi di pesero gli anziani rifiutano questa iniezione ieri ieri era il solo vaccino disponibile ma in tanti hanno preferito rinunciare la responsabile del distretto esposto dice reazioni di pancia che però non è giustificata e qualcuno dice asur poteva avvisare gli anziani prenotati che le dosi Pfizer non erano consegnate non erano state consegnate per questo richiederò un nuovo appuntamento aspetterò le prossime dosi ma di un altro vaccino tutti coloro che hanno rifiutato l'iniezione intanto dovranno di nuovo iscriversi alla piattaforma any poste chi ha rifiutato o non si è presentato è stato subito rimpiazzato da una lista di riservisti coprendo comunque quasi lo stesso numero di iniezioni previsto in ogni giornata intanto il Corriere Adriatico pubblica invece l'annuncio che Valentino Rossi così come i piloti il team che è impegnato in Qatar dove sono in corso i test ufficiali di invista della stagione che vedrà subito due gare ravvicinate il 28 marzo il 4 di aprile parliamo di sport parliamo di motocicletta ovviamente di moto Rossi è stato vaccinato con il con il vaccino Pfizer-BioNTech sia lui che i piloti e i membri del team della moto GP quindi anche moto 2 e moto 3 in Qatar infatti la vaccinazione di massa è avviatissima e la proposta del governo locale ha immediatamente trovato il consenso di tutti tra i vaccinati ieri anche Valentino Rossi nonostante il covid avuto lo scorso 15 ottobre ovviamente in questo gentile omaggio degli emiri molti hanno visto uno schiaffo dato ai poveri italiani alle prese invece con la psicosi da AstraZeneca in attesa di dosi insomma potere dei soldi scrive Gianluca Murgia questa mattina sul Corriere Adriatico di questa mattina AstraZeneca impaurisce gli anziani invece siamo sempre sul carino di Pesero troppi pericoli vogliamo Pfizer Pesero una mattinata di caos al centro Monaldi la prima marca proposta perché la seconda era finita ma il caso degli effetti collaterali ha bloccato molte inoculazioni hanno detto hanno detto che ci richiameranno insomma qui Davide Eusebi questa mattina nel suo articolo ieri è andato così come altri colleghi dei giornali nei centri vaccinali per così sentire un po' gli umori delle persone e per esempio questa persona Camilla Basile molto arrabbiata dice anche io ho rifiutato il vaccino per i miei familiari perché non vogliamo AstraZeneca perché si sono registrati calesi a livello nazionale allarmanti è una questione di correttezza poi guarda qua mostra un modulo nel modulo di convocazione c'è scritto che ci avrebbero somministrato Pfizer o Moderna perché dunque hanno cambiato le carte in tavola chiediamo l'Asur ma non mi risponde così anche Andrea Cagnazzo che scrive sono partito da Fano per vaccinare mio padre un paziente di 90 anni con diverse patologie anche gravi invalido arrivati al centro vaccinale di Urbino c'è stato immediatamente detto che era disponibile solo il vaccino AstraZeneca per tutte le fasce di età a questo punto abbiamo richiesto e ottenuto di parlare con un medico che ci ha confermato l'informazione e poi però insomma si è creato il caos mi chiedo come sia possibile far spostare per decine di chilometri dei pazienti critici per poi informarli della disponibilità di un solo vaccino tra l'altro il più pericoloso vedete già come è stato etichettato come è stato bollato AstraZeneca ormai è per l'immaginario collettivo il più pericoloso ecco quando in realtà insomma è tutto da dimostrare nel senso che chiaramente diciamo che non è partito bene questo l'abbiamo detto anche ieri ma non ci sono non è ancora stato evidenziato dal punto di vista scientifico cioè non c'è questa correlazione tra la dose e il decesso di queste persone che hanno fatto il vaccino insomma questa correlazione bisogna stare molto attenti perché poi siamo in un momento in cui già di paura ce n'è tanta se poi ci mettiamo anche il caos e la paralisi non andiamo da nessuna parte comunque non solo i cittadini di Fano anche gli anziani malati si spostano per 50 chilometri per il vaccino ma una volta arrivati si trovano dinnanzi a questa brutale beffa mentre la notizia sempre dal Carlino è che a Rossini Center si inizia il 29 di marzo con addirittura 2000 vaccini al giorno sostituirà il centro Monaldi l'Asur dà l'ok anche per un capannone di Xanitalia le operazioni di vaccinazione inizieranno dal 29 di marzo a Rossini Center di Pesero ad annunciarlo è stato proprio Saltamartini le operazioni di trasloco invece dal Monaldi all'Iperrossini si faranno dal 26 al 28 di marzo giorno in cui appunto non si effettueranno le vaccinazioni intanto la prefettura ieri che cosa ha fatto viste le voci che stavano circolando su questo vaccino la paura, la tensione AstraZeneca è stato il vaccino per i docenti, gli insegnanti quelli della scuola ma anche quelli delle forze dell'ordine per tutti gli operatori delle forze dell'ordine quindi la prefettura ieri ha mandato degli avvisi via mail dicendo di stare tranquilli insomma di non preoccuparsi è tutto ok ma i poliziotti hanno avuto il vaccino da un lotto diverso perché questo è la cosa importante la prefettura invia 1800 email ai vaccinati per dire loro appunto di stare tranquilli intanto la comandante per esempio della municipale Francesca Muzzini di Pesero spiega non c'è stato alcunché di grave o anche di preoccupante ci siamo vaccinati in 97 su 110 agenti di polizia locale di Pesero perché vi sono ancora molti che si sono negativizzati da poco quindi hanno avuto il covid e ancora sono negativi da poco tempo altri sono positivi e pochissimi hanno detto di no o che magari intendono farlo più avanti poi per esempio Fabio Sacchi che è un vigile del fuoco dice io ho avuto qualche linea di febbre ma nel giro di un giorno è svalito il malessere anche i carabinieri si sono quasi tutti vaccinati con febbre e dolori muscolari per circa il 50% di loro anche Fano, Fano tensione ed elusione scrive a pagina 3 il Carlino in tanti innestano la retromarcia al Codma di Rosciano dietro front spesso dopo una lunga attesa mio padre qualcuno racconta ha detto che non vuole rischiare a 94 anni il cambio dice è una brutta sorpresa all'eccezione di un insegnante dice sono convinto che questo siero sia sicuro insomma qualcuno dice questi non erano i patti avremmo dovuto ricevere il vaccino Pfizer come previsto alla nostra età invece ci troviamo di fronte a questa brutta sorpresa molti hanno rifiutato l'iniezione alcuni al momento ecco questo è importante io direi che vedete molti hanno rifiutato l'iniezione all'ultimo momento alcuni hanno chiesto spiegazioni altri invece si sono fatti forza convinti dai parenti e hanno accettato la vaccinazione e questo è importante anche l'apporto e il supporto di persone che non si fanno prendere dalla paura ma che cercano di stare un po' con i piedi per terra ragionando un po' poi è chiaro che chi ha per esempio come questa persona rischio trombosi o altre patologie sappiamo che AstraZeneca non è il vaccino adatto per chi ha patologie importanti o per chi ha appunto questo rischio trombosi sono ecco il vaccino AstraZeneca non è indicato potevano dirmi che cambiavano il siero la protesta di un avvocato con il padre di 91 anni e la madre di 86 andiamo avanti con i giornali perché ripeto anche ad Ancona anche poi in tutte le marche è successo così questo per esempio vedete la pagina di Ancona sorpresa al Paolinelli Paolinelli dove si fanno i vaccini anche qui il cartello oggi AstraZeneca scoppia la protesta nessuno ci ha avvertito dopo il ritiro del lotto sospetto ieri al centro sportivo in molti si sono presentati sapendo che loro toccava a fa il siero Moderna abbiamo portato i nostri anziani a vaccinarsi non a morire ecco questo è un po' il per farvi capire un po' anche l'esasperazione quando si arrivano a dire certe frasi anche molto forti alcune se ne vanno via subito altri invece hanno chiamato i medici hanno cercato di capire di farsi rassicurare e per esempio guardate questa fotografia e questo articolo sempre dalla pagina di Ancona ma Ancona vale per tutti insomma fatto lo stesso dice questa coppia di anziani noi ce l'hanno detto questa mattina quindi ieri appena siamo arrivati che avremmo fatto l'AstraZeneca ma poi poco ci cambiava a noi cioè lo abbiamo fatto lo stesso perché? perché abbiamo un nipotino di 4 mesi che abbiamo visto solo in fotografia e il vaccino adesso ci permetterà invece di vederlo dal vivo e quindi non vediamo l'ora così ha parlato appunto a una coppia di ultraottantenni Ivana e Fortunato Pazzaglia ieri mattina che è uscita sorridente e contenta di essersi vaccinata anche se con la dose del vaccino un cui lotto sospetto è finito sotto controllo anche una 95enne ha fatto l'AstraZeneca senza titubanze mia nonna lo ha saputo solo qua ha detto Martina Gigli nipote psicologa abbiamo chiesto informazioni alla dottoressa e poi ha deciso di farlo lo stesso anche perché se non doveva rifare altrimenti doveva rifare tutta la prenotazione e non si sa quando andava a finire meglio adesso che niente anche il Corriere Adriatico niente Pfizer per la prima dose tra gli over 80 c'è chi rifiuta di vaccinarsi con la AstraZeneca fiale conservate per i richiami ma dopo il lotto sospetto aumentano i timori ora a riceverlo quindi non è stato soltanto il personale scolastico ma anche la categoria degli over 80 l'AIFA l'Agenzia Internazionale del Farmaco ha ormai dato il via libera all'utilizzo di questo farmaco anche per quella fascia di età quindi anche per chi ha più di 80 anni ma diversi anziani non se la sono sentita di farselo somministrare hanno preferito rinviare la profilassi a data della destinarsi altri invece sono stati ritenuti inidonei cioè quindi non potevano farlo secondo il personale sanitario che era lì presente poiché portatori di patologie che non sono compatibili con il vaccino anglo-svedese ora se andiamo avanti con la rassegna a leggere i titoli chiaramente al posto di buttare acqua sul fuoco qui ci buttiamo benzina sul fuoco perché? perché guardate il titolo adesso sul resto del carlino a pagina 5 nazionale ecco qua militare morto indagato l'amministratore delegato di AstraZeneca hai capito l'ente europeo dei farmaci avverte gravi reazioni allergiche tra gli effetti collaterali l'azienda taglia ancora del 25% le forniture all'Unione Europea finora il PM di Siracusa dice finora però non è emersa alcuna correlazione fra la dose ricevuta e il decesso il decesso appunto di questo sotto ufficiale di 43 anni della provincia di Catania che è morto il 9 marzo scorso subito dopo nelle ore successive alla somministrazione del vaccino ora si tratta di un atto dovuto chiaramente quello di indagare l'amministratore delegato di AstraZeneca perché è un atto dovuto perché c'è l'autopsia di mezzo e quindi l'autopsia che va fatta nel corpo di questo 43 anni di questo sotto ufficiale chiaramente d'altra parte dobbiamo anche ricordare che nel momento in cui si arriva al blocco di un lotto significa di un lotto sospetto tra l'altro significa che c'è un controllo bisogna usare bene le parole c'è un controllo su tutta la catena c'è un controllo molto accurato su tutto pensate e pensiamo se al posto di bloccare il lotto qualcuno avesse detto ma finché non ci sono evidenze finché non ci sono correlazioni stiamo zitti andiamo avanti insomma sarebbe stato peggio allora in via precauzionale hanno bloccato tutto il lotto in attesa di capire se c'è correlazione tra il decesso e il il siero chiaramente tutto questo con i mezzi tecnologici di informazione che abbiamo oggi chiaramente una cosa del genere viene amplificata e quindi è un attimo passare dall'informazione alla paura intanto sul Carlino di oggi c'è anche questa intervista che viene fatta a Guido Rasi che è docente all'Università di Roma Tor Vergata che è già direttore dell'EMA ente europeo dei medicinali ora lui non ha dubbi Rasi dice che questo vaccino è assolutamente sicuro efficace e controllato dove il siero è stato somministrato a tappeto morti e ricoveri sono calati addirittura del 94% vi leggo solo due domande e due risposte che credo facciano capire un po' bene qual è il pensiero di questo di questo esperto Guido Rasi ripeto 67 anni ex direttore dell'EMA allora la domanda del collega Alessandro Balpelo è l'opinione pubblica è scossa prima il tir e molla sulla dose ottimale parliamo di AstraZeneca poi tentennamenti sulla data del richiamo le limitazioni per fasce d'età come dicevamo all'inizio non è partito bene c'è chi pensa che esistano vaccini di serie A e vaccini di serie B la risposta è questa di fatto ci ritroviamo a discutere di tre o quattro casi sospetti tutti da accertare la cautela ci sta ma qualcuno perde di vista un dato essenziale in Italia abbiamo 300 e passa morti al giorno a causa del virus quei vaccini maneggevoli e sicuri sono l'arma che abbiamo per fermare la strage l'altra domanda lei oggi oggi come oggi lo consiglierebbe AstraZeneca alle persone più care quindi alle persone della sua famiglia la risposta di questo signore qua di questo professore è questa le dico di più se fosse possibile occupare il posto lasciato libero da chi si tira indietro andrei io di corsa se avanzano delle dosi che le prenoto per i miei familiari chi deve fare il vaccino oggi pomeriggio o domani mattina lo capisco sarà frastornato dal continuo accavallarsi di notizie ma tutte queste persone dovrebbero invece recarsi all'appuntamento con gioia adesso qui magari si è lasciato un po' trasportare magari anche cantando direi di no ma insomma con gioia perché compiere questo passo significa andare nella direzione giusta verso la fine del tunnel allora sulla pagina 4 invece del resto del calino ci sono benefici e rischi con la guida alla vaccinazione che credo sia importante si parla dell'efficacia dei vaccini se è uguale oppure no se si possono verificare reazioni gravi sono tutte cose che più o meno abbiamo discusso che la gente più o meno sa e conosce il siero della Pfizer offre una maggiore garanzia di protezione dalla malattia causata dal coronavirus e si aggira sul 93% mentre questo riquadro ci fa capire un po' come sono in questo momento i vaccini anti-covid per l'Italia tra l'altro c'è questo nuovo quarto ultimo vaccino che ancora non è arrivato ma che arriverà della Johnson & Johnson e le dosi vedete ricevute in questo momento sono ancora zero però ecco c'è anche questo quarto vaccino che si inocula una sola volta la svolta di Draghi invece il vaccino sarà prodotto in Italia dice il Premier contratto firmato così si esce dalla crisi l'annuncio in vista durante una visita al Lab di Fiumicino accordo con la multinazionale Fateon Termo Fisher per realizzare appunto questo siero mentre lasciando adesso passo da parte il discorso dei vaccini c'è la questione del virus delle varianti che è diventato un po' un incubo l'Italia è sempre più rossa non ci saranno più zone gialle Draghi dal via libera al nuovo decreto legge contro la pandemia otto regioni e la provincia di Trento nell'area di massimo rischio ecco quindi l'Italia eccetto la Sardegna che è l'unica ad essere in zona bianca quindi con con rischio lieve e di conseguenza con misure anticontagio molto blande però per il resto l'Italia sarà gran parte rossa due settimane in rosso invece per tutta la regione Marche che entra in località in modalità lockdown da lunedì anche la Scolano applicha le restrizioni delle quattro altre quattro province un passaggio in automatico le Marche superano infatti i 250 casi per 100.000 abitanti altre due settimane in rosso titolo del Carlino di Pesaro i controlli saranno intensificati l'annuncio di Acquaroli intanto il Comune annuncia un giro di vita nel fine settimana e chiama a raccolta i volontari per la sorveglianza dei parchi cittadini e qui con un po' di nodo in gola leggiamo anche questa notizia addio ad Alessandra Ciolli morta nel giorno del suo compleanno e quindi nata in cielo Alessandra che personalmente conosciuto come anche noi che facciamo questo mestiere Alessandra Ciolli che si è spenta ieri mattina nella sua abitazione di Viale Trieste a Pesaro aveva 64 anni sotto casa c'era l'ambulanza che la doveva trasportare ad Urbino per le terapie un anno fa le era stato diagnosticato un mal incurabile un tumore provocato dall'amianto rarissimo per quanto inspiegabile Alessandra sposata con Giorgio Badioli lascia la mamma Maria Luisa e la figlia Flavia aveva iniziato a lavorare come public relation ed ha detto stampa a Torino per una delle agenzie di comunicazione l'Armando Testa tra le più note in Italia il ricordo nell'arresto del Carlino che avvisa anche che nella chiesa di Cristo Re domani alle 18 si pregherà per lei per la sua anima il rosario e lunedì alle 15 sempre a Cristo Re ci saranno i funerali ovviamente la morte di Alessandra Ciolli è stato viva con mozione in città sia perché era molto conosciuta per la sua professionalità sia per le sue radicate trasversali amicizie ovviamente la ricorda anche il Corriere Adriati ve lo vedremo tra poco poi dopo tre settimane ho vinto la mia battaglia contro il Covid Ruggeri decano dei barman a Senigallia appena tutto sarà finito inviterò i sanitari che mi hanno curato poi invece sempre la cronaca del Corriere di Senigallia guarda la tv stroncato da un infarto un mortale di Arcevia sotto shock per l'improvvisa morte dell'elettrauto Mauro Pacenti 45 anni un infarto un infarto mentre guardava la televisione mentre sempre sul fronte sanitario niente premi neppure le indennità gli infermieri straordinari a rischio area vasta 1 la protesta dei sindacati il personale rischia lavorando nelle aree di maggior contagio ma questo non ha un riconoscimento economico la sospensione riguarderebbe 22 e 23 marzo prossimi mentre da Urbino va a fare la spesa e anzi siamo ad Apecchio qui il bolide lo travolge un 76enne che muore sul colpo shock in paese investimento nei pressi delle strisce pedonali di via Dante ad Apecchio deceduto Massimino Lucchetti mentre sull'altra pagina sempre su questo incidente qui ci sono anche le fotografie una foto grande con il luogo vedete qua purtroppo fate impressione questo telo bianco quando si vedono a terra sempre terribili immagini terribili una tragica fine ieri mattina per quest'uomo che attraversava la strada durante la passeggiata mattutina l'auto proveniva da Urbani ed era guidata da un pretese che si trovava in zona per lavoro a Fano invece addio a Paola Paradisi la cuoca delle rose è morta a 69 anni la titolare del celebre ristorantino di via Bellandra che aveva gestito dal 1968 con il marito Franco e la figlia Martina oggi alle 15 e 30 nella chiesa di Sant'Orso il suo funerale una vita passata a cucinare la tradizione e ancora dalla nostra rassegna stampa è morto Marco Facondini la musica resta in silenzio dal Roffa al Conservatorio del Rossini alla Vitri Frigo era il mago dei suoni e anche dell'acustica aveva 65 anni ed si è dovuto arrendere ad una malattia che è stata veloce e furiosa Marco lascia la moglie Cinzia Panici e il fratello Massimo e sarà ricordato in forma privata e sotto lo stesso la marfoglia ricorda Alessandra Ciolli l'addio nel giorno del suo compleanno ieri compieva 64 anni ha lottato fino all'ultimo contro un male crudele è stata tra le prime a intuire la potenzialità della comunicazione attraverso le agenzie i funerali si traranno di pomeriggio alle 15 nella chiesa di Cristo Re domani invece ci sarà per lei il rosario e poi da Mondolfo Mondolfo che ricorda Francesco la sua prima vittima del covid un anno fa il virus si è portato via a Sora la moglie parla di un vuoto incolmabile sempre dalle pagine del Corriere Casello Aeroporto e Patrimonio se richiama gli onorevoli fanesi incontro online per chiedere l'accelerazione su infrastrutture e per i siti storici artistici e poi ancora da Fano il Carlino coprire la chiesa di San Francesco si può il professor Gianluigi Mondaini dell'Università delle Marche Politecnica delle Marche non ha dubbi e dice in Italia e nel mondo sono tanti gli esempi sopra vedete il museo del Novecento di Mestre coperto e quindi è una cosa che si può fare andiamo adesso sull'ultima pagina della nostra rassegna stampa pagina di sport del Corriere contro Vale orgoglioso Luca Marini è pronto ad esortire nella MotoGP dove sfiderà l'illustre fratello è tutto noi ci salutiamo qui tra poco c'è la messa in diretta delle 7.30 da Loreto poi questa sera sempre da Loreto in diretta il Santo Rosario e la processione eucaristica poi domani mattina alle 10 invece Santa Messa dalla Basilica di San Pietro in occasione dei 500 anni di Cristianesimo nelle Filippine è tutto grazie buon fine settimana a tutti